Se ti piacciono le regga vibes, raga coi cinghiali non dimenticare mai Liguria Reggae Arts organizza anche per quest'anno, Balla coi cinghiali 19-20-21 agosto, Bardinetto Savora, è come gusto, ma si mangia meglio Ci saremo anche noi il 19 di agosto, ve lo spiate, King Reggae Band Rest up! Grazie a tutti! Grazie a tutti!